Buongiorno, ottobre, oggi è il primo ottobre, inauguriamo questo nuovo mese assieme con la nostra rassegna stampa, arriva il mese diciamo che ci porta direttamente nell'autunno, il mese che ci porta nelle fiere del tartufo, le fiere bellissime della nostra provincia di Pesaro Rubino, non solo le fiere del tartufo ma quelle che comunque esaltano i prodotti tipici della nostra tradizione. Allora ben ritrovati a tutti, un saluto a tutti i nostri amici che sono collegati sui social attraverso facebook e l'applicazione del nostro sito internet, l'invito è quello di mandarci foto, video anche di segnalazioni al 370 366 72 10, foto dei vostri amici animali, foto del luogo in cui vi trovate, insomma fate partecipare tutto il pubblico di Rossili TV di quello che state vivendo. Chiaramente vi ringraziamo sempre per le vostre segnalazioni che sono tantissime, anche questa mattina vi faremo vedere alcuni messaggi che ci sono stati inviati proprio da voi telespettatori. Oggi è una giornata nuvolosa così come lo saranno anche le prossime giornate, infatti vedete le temperature vanno dai 12 gradi fino ad arrivare alle massime a 22 gradi, ma una grande nuvolosità in tutta la provincia di Pesaro Urbino e in generale in tutta la regione Marche che adesso vediamo subito. Ecco qui schiarite che si alternano a momenti di sole, il tempo si manterrà stabile anche se assisteremo a un deciso aumento della copertura nuvolosa, minime sui 13 e massime sui 24 gradi. Il sole sorto alle 7.03 tramonterà alle 18.48. e siamo adesso a Montelabate, vediamo questa immagine di questa webcam che è stata collocata proprio a Montelabate, quindi salutiamo tutti i residenti di questa zona, il sindaco Roberto Rossi e chiaramente tutti i cittadini che magari vorranno condividere con noi alcune foto, immagini di Montelabate proprio nel nostro numero Whatsapp oppure scrivendoci sulla nostra diretta Facebook. Andiamo a vedere subito le notizie, partiamo dal Corriere Adriatico, provincia hanno vinto tutti, il centro-sinistra tiene il governo ma il centro-destra raccoglie più voti. Il caso Urbino, l'eurodeputato Ricci, il civismo ci sceglie e la destra si spacca. È così che vinciamo. La fotonotizia però dedicata alla Camera Ardente a Roma per l'artista Glauco Mauri, come sapete è venuto a mancare, ieri sera nel nostro telegiornale abbiamo fatto una dedica sia a lui che ad Amati, il gota della cultura per Mauri, vedete qui al Teatro Argentina questo importante momento per ricordare l'artista. A Fano, antiche mura romane, iniziano i rilievi per il modello digitale e poi a Fossombrone si torna a parlare di questo uomo che chiedeva mille euro a smartphone, è stato arrestato e l'arresto è stato convalidato. E poi a Gradara, anzi siamo a Gradara ma la notizia riguarda la Romagna, ma riguarda anche il nostro territorio perché è morta questa povera ragazza di 21 anni in galleria in moto con il suo fidanzato, lei era originaria appunto di Gradara, studiava, aveva studiato a Pesaro, 21 anni morire in moto con il suo fidanzato, siamo in questo caso in Romagna, Martina si era trasferita in Romagna ma vedremo meglio la notizia tra poco. E poi andiamo anche a Fano, Dengue, i casi sono saliti a 102 ed ora ci sono in vendita anche dei kit anti-zanzare, i prodotti nelle quattro farmacie comunali di Fano distribuiti da Aset al prezzo calmierato di 15 euro. Poi chiaramente la Vis ieri pareggio in casa contro il Perugia. E poi il resto del Carlino dà la priorità alla fotonotizia al pareggio della Vis Pesaro, solo un punto per la Vis, scomparso il computer di Santini. Caso a Fidopoli, l'ex braccio destro di Ricci ha denunciato di aver perso il PC di proprietà del comune. E poi tante le segnalazioni che arrivano anche noi costantemente per quanto riguarda la situazione del centro direzionale Benelli, situazione che chiaramente si aggrava quando ci sono le forti piogge, quelle che abbiamo vissuto proprio in questi giorni, forti piogge che rovinano ancora di più la situazione già molto delicata e soprattutto questo tetto che è davvero quasi pericolante. Allora i residenti chiedono assolutamente una manutenzione immediata. Febbre denghe, appunto anche qui la notizia dei casi che sono saliti a 102 e poi butta fuori Fanese, uccise un pompiere, i racconti di chi c'era, un fatto avvenuto però a Rimini, alla discoteca Frontemare e poi la vittoria di Pirro, centrodestra, ribaltone mancato in provincia. Il grande pesarese Glauco Mauri l'omaggio, ora la città faccia la sua parte per ricordarlo. L'ultimo saluto all'ex sindaco Aldo Amati, uomo d'altri tempi. La VL, buona la prima, avete visto in tantissime la partita di domenica sera alle 21.30 su Rossini TV e ieri sera alle 21.00 anche eravate in tanti a vedere appunto la replica di questa partita che ha portato la vittoria della VL sul Nardo ma adesso è una pausa veramente brevissima perché mercoledì si gioca in casa alle 20.30. E allora vediamo queste pagine, anzi una pagina su questa inchiesta che sta portando avanti il resto del Carlino sul caso in modo particolare di opera maestra e Massimiliano Santini, è sparito il computer che Santini utilizzava per gestire il suo lavoro quando era dipendente pubblico. Questo computer era di proprietà del Comune ma lui comunque lo aveva ancora a casa per diverso tempo, lo ha avuto ma adesso ha denunciato la scomparsa. L'ex creativo del Comune lo teneva a casa, anche dopo il mandato, sollecitato a riportarlo ha risposto ora con una denuncia di smarrimento. Santini è stato sottoposto a perquisizione giovedì scorso e gli sono stati sequestrati sia un computer che il telefono, oltre a vari documenti. Iniziata un'operazione di controllo degli atti amministrativi con rilascio di punteggi. E poi qui abbiamo l'audizione. Domani Belloni sarà in Commissione Atti Garanzia perché l'attuale Presidente del Consiglio Comunale, Enzo Belloni, che nella passata legislatura di Matteo Ricci era assessore all'operatività, insieme a lui è stato convocato anche il dirigente Eros Giraldi. Durante la propria audizione Belloni riferirà presumibilmente dell'affidamento relativo ai lavori idraulici nell'immobile comunale di Via Nanterre. E poi qui abbiamo Mauro Lanzi, capogruppo di centrodestra. Lanzi consiglierei a Biancani di azzerare tutto perché è ancora un grosso problema. È chiaro ed evidente che Santini si è regista di questi affidamenti. Ecco qui la città da rifare, alcuni luoghi della città che necessitano di ripristino. Siamo in questo caso al centro direzionale Benelli. Una trave slitta a causa infiltrazioni. La piazza interna attualmente è stata chiusa al passaggio. L'acqua che si è accumulata per le piogge ha fatto dei danni. Sono stati allertati i pompieri. Le spese di manutenzione toccano al comune. Stamattina un sopralluogo del sindaco e l'amministratrice è pronto il piano di ristrutturazione. Quindi ci sono buone notizie per questa struttura che è veramente molto ammalorata. Le spese per risistemare tettoia e piazza interna del centro Benelli sono a carico del comune. Il comune quindi deve pensare a pulire la tettoia e risistemare la trave. Noi pensiamo a mettere a posto con delle piastre e i pannelli in parte staccati. Nella pagina 4 e 5 oggi del resto del Carlino trovate due dediche, due omaggi. La prima all'ex sindaco Aldo Amati. È stato fatto un momento di commemorazione, un ultimo saluto a questo sindaco di Pesaro che governò dal 1987 al 1992. Prima la camera ardente in consiglio, in comune, poi ieri pomeriggio la cerimonia, vedete qui nel loggiato. L'omaggio dei politici e il saluto del figlio mi ha regalato soprattutto la libertà anche lui. Fu lui che portò alla costruzione del palasporto e ci fu lo scontro con i tifosi della VL. Amava il lavoro della terra, voleva studiare ma ha rischiato di rimanere per sempre sui campi. E poi qui abbiamo l'addio a un altro grande pesarese, lui si chiama Glauco Mauri e l'ultimo atto a casa ora aspetta la città a fare la sua parte. Anche noi abbiamo fatto un ricordo sia di Glauco Mauri che di Aldo Amati. Magari dopo regia se vogliamo facciamo vedere un estratto dell'intervista di Amati che fece i nostri studi diversi anni fa in cui raccontava il suo libro autobiografico. Quando ce l'avete in regia ditemelo che un piccolo estratto lo possiamo far ascoltare di questa ultima, insomma tra le ultime interviste che ha fatto appunto Amati. Tornando invece a Glauco Mauri, l'ultimo atto a casa è stata allestita ieri a Roma al Teatro Argentina, la Camera Ardente per Glauco Mauri. C'è stato anche un ricordo, uno speciale sulla RAI per parlare di lui. Negli anni 60 tornava a Pesaro con un solo grande imperativo, dimagrire, ma poi ripartiva senza aver perso un eto, si mangia troppo bene nel nostro territorio. Quando fin negli anni 60, nel 1960 era viva sua madre, lui tornava d'estate a Pesaro con un solo grande imperativo appunto di dimagrire e quindi cercava anche di fare tennis, di mangiare meno, ma poi alla fine la cucina marchigiana era troppo buona e lui non sapeva resistere. Lo spettacolo al Teatro Rossini, l'ultimo che ha fatto appunto era proprio nella sua terra, come se fosse venuto a morire qui. Ieri la Camera Ardente appunto e chiaramente tante le persone che lo hanno ricordato, Gabriele Lavia, Alessandro Gasman, perché era veramente un grande uomo di teatro. I numeri del voto. C'è stata l'elezione del Consiglio Provinciale, il ribaltone però è mancato, il centro-destra non sfonda e Gambini resta fuori a ottavo. 6.000 voti in più non bastano, gli eletti in Consiglio sono 6 da una parte e 6 dall'altra. Per una manciata di preferenze di centro-sinistra ha evitato di andare in minoranza e quindi circa 220 voti hanno impedito al centro-destra di vincere per davvero le elezioni provinciali. Allora qui ci sono anche i commenti al voto. A sinistra vedete l'attuale presidente della provincia, proposi una lista mista, loro mi hanno detto no e governiamo ancora noi. La situazione è questa. Invece il sindaco di Urbino dice successo che è rimasto a metà, ora è una situazione complessa, spero venga gestita bene. Un successo solo parziale, così Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, giudica i numeri ottenuti dal centro-destra a queste elezioni del Consiglio Provinciale. Allora io vorrei darvi un estratto di Aldo Amati che fece un'intervista qui a Rossini TV. Aldo Amati, ex sindaco di Pesaro ma in questo 2021 anche scrittore. C'è stata una spinta biografica che le ha dato l'impulso a questa pubblicazione? Beh sicuramente sì, nel senso che nel momento, non solo perché c'era la pandemia, ma anche perché sono abbondantemente in pensione e quindi sono poco impegnato in altre cose. Il piacere di provare a ricordare le cose non comuni che sono capitate nella mia vita, da quando ero bambino fino a quando ero adulto o quando ero sindaco insomma. E man mano, un po' alla volta, ho cominciato per un giornale come Il Campanon di Sant'Angelo Invado, avevo scritto un pezzo dei miei ricordi di infanzia e da lì ho continuato in questo discorso che insomma ne ha fatto un libro che è difficile da definire perché non è un romanzo però c'è il romanzo di una vita. E questo è un estratto chiaramente dell'intervista che gli abbiamo fatto diversi anni fa, la potete trovare chiaramente sui nostri social, sul nostro sito eccetera e ha lasciato un dono grande alla città con questo libro. Andiamo a parlare di Amianto perché esce il bando zero, un minifondo di partenza solo 30.000 euro ai privati per i lavori di smaltimento. Qui vediamo la conferenza stampa che ha annunciato appunto questo minifondo massimo di 1.000 euro a testa, la domanda a carico della ditta che poi bonificherà l'edificio del privato. Il sindaco dice vediamo quante sono le richieste e ci muoviamo di conseguenza. A presentare la domanda per il contributo, ricordo dovrà essere la ditta specializzata che effettua i lavori, il contributo non sarà cumulabile con altre agevolazioni e potranno usufruire dell'incentivo solamente gli interventi di bonifica che prevedono la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti Amianto. La scadenza è prevista per il 15 novembre. quindi ecco una cosa interessante se avete delle cose che, se avete delle situazioni in cui c'è anche una piccola parte di Amianto potete fare questa richiesta. E poi ci siamo, arriva il weekend dedicato alla festa dei fiori così come la chiamiamo noi ma in realtà si chiama mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali. Qui vedete tutto il team organizzativo a partire da Francesca Frenquellucci che ha seguito sempre l'assessore in prima persona questa festa dei fiori. Qui per l'ultimo anno, quest'anno, nel Viale della Repubblica, poi dal 2025 la festa dei fiori tornerà in piazza del popolo. E qui vedete alcune strati d'immagini del servizio dello scorso anno chiaramente e poi invece la conferenza di quest'anno in cui si va a parlare appunto della festa dei fiori che partirà dal 4 al 6 ottobre dalle 8 alle 20. Il sabato invece rimarrà aperta fino alle 22. Chiaramente l'ingresso è libero. attenzione alla viabilità. Montaggio e allestimento stand avranno inizio da stamani, giorno da cui saranno validi i divieti di sosta in Viale della Repubblica e la chiusura al traffico della stessa via nel tratto compreso tra la stratale 16 e Viale Trieste. Previsto il divieto di circolazione anche in Viale Trieste nel tratto tra via Vaccai e via Lanfranco e quindi mi raccomando fate attenzione anche ai parcheggi eccetera. Intanto segnaliamo la pulizia delle caditoie, tocca a case bruciate e poi a Villa Betti. Continua la pulizia delle caditoie sul suolo pubblico della città dal 30 settembre, quindi iniziata ieri al 6 ottobre, gli interventi di Marche Multiservizi si concentreranno a case bruciate e Villa Betti. E poi andiamo all'operazione Mare Sicuro, la Capitaneria di Pesaro e Gabici ha fatto un totale di 1763 controlli, questo è il bilancio dell'estate, 44 sanzioni e 95 bollini blu. Invece nella pagina che ci portano a Fano si parla della dengue, la febbre di laga, i casi sono 102, la rabbia di un'infettata che dice il comune che fa. Lei è la commerciante Miriam Rovinelli, ci chiedono di svuotare le ciotole, intanto lasciano però la piscina di Sassonia con il ristagno d'acqua. Salgono a 102 i casi di dengue accertati ai quali si aggiungono 10 casi probabili, lo afferma la Regione Marche che assicura la situazione però è monitorata costantemente, a parlare sono due donne fanesi che la dengue l'hanno avuta e ancora ci combattono Miriam Rovinelli, titolare di un negozio di abbigliamento in via Fanella, per 10 giorni ha avuto febbre, mal di stomaco. Mi chiedo perché solo a Fano ci sia la dengue, come sia possibile che a pochi chilometri di distanza il virus non ci sia affatto? Dalla Regione intanto fanno sapere che proprio sulla dengue oggi è previsto un incontro di aggiornamento con il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità. Intanto le farmacie predispongono questo kit che è in vendita già da domani, 800 dispositivi antidengue ma al momento non c'è una psicosi, la gente è piuttosto tranquilla, tanti chiedono se esistono test da fare a casa come il Covid e intanto in questi kit al costo di 15 euro sono utili per affrontare questa situazione. Non mi sembra ci sia un clima da psicosi, conferme Emanuele Feduzzi della farmacia Canale Albani. I clienti comprano gli spray repellenti, chiedono quali siano i sintomi delle malattie ma non sono allarmati. E poi, sempre dalle notizie di Fano, la trattoria Nadia spegne i fuochi. Ha servito la tradizione per 53 anni, il locale fondato nel 1971 e gestito da Daniele Berloni e la moglie Daniela. Chiude definitivamente i battenti, una cucina senza stelle ma apprezzata in tutta la provincia, tra i nostri clienti anche la senatrice Segre. E allora, prima di andare alle altre notizie, 370-366-7210 è il numero che potete usare con Whatsapp per mandarci le vostre foto, anche quelle simpatiche, dei vostri amici animali, oppure del paesaggio del vostro comune, del vostro quartiere. E allora andiamo a vedere. Mi chiamo Billy, amore. Mi chiamo Billy da Pesaro. Questo bellissimo micio è di Manuela. Eccolo qui, che bel gattone Billy e che musetto che hanno questi nostri amici animali. E poi, aspettate, perché abbiamo anche delle belle immagini dell'alba, da Fonte Corniale, direzione Ancona. Buongiorno Luciano, ma che belle foto che fai, bellissima. Hai un paesaggio che si presta veramente a delle foto spettacolari, ma tu sei anche molto bravo. Grazie Luciano. Ce n'è un'altra. Questo bellissimo tramonto da Fonte Corniale. Ecco, allora veramente ti ringraziamo, ti salutiamo e attendiamo chiaramente qualche altra vostra foto. A Fano si alza il sipario sulla pallavolo. Standing ovation per la Virtus. Il Teatro della Fortuna ha ospitato la cerimonia per i 60 anni della società che è stata promossa in A2. Santorelli, l'assessore, dice al Via, i lavori per portare il Palace a mille posti sarà pronto per la seconda in casa di campionato. E intanto un bel progetto del Centro Studi Vitruviani per la Politecnica delle Marche. Faremo un rilievo completo del millenario monumento e metteremo tutto in 3D. Quindi un progetto bellissimo delle mura auguste ricostruite in 3D che diventeranno protagoniste di un tour virtuale al quale si potrà accedere da cellulari, tablet e computer. Veramente una cosa molto bella. Allora, la nostra amica Michela ci segnala che questa mattina la scuola dell'Istituto Agrario, le classi seconde, andranno a tagliare l'erba nella caserma dei militari. Bravi ragazzi, bravissimi. L'Istituto Agrario veramente fa tantissime attività utile, e le pratiche che oggi, come oggi, servono moltissimo, soprattutto ai nostri ragazzi. E allora grazie anche all'artista Ornella che ci dice ci ha lasciato quando vivevo a Roma da ragazza recitavo al Teatro Vascello, lo conosco bene, era sotto il palazzo dove abitavo, recitava appunto Glaucoli al Gianicolo Monteverde Vecchio. Grazie. Anche io ho vissuto a Roma, Ornella, quindi so dov'è il Teatro Vascello. E allora grazie anche a tutti gli altri che ci stanno salutando, Filippo, Baioni, Fabrizio, Tonaceti, ecco. Buongiorno, Lorenzo Tagliaferri, veramente a tutti voi un grande abbraccio, sempre fortissimo. Rimaniamo a Fano con questa brutta storia che successe nel 2023 nella discoteca Fronte Mare di Rimini, un buttafuori uccise a pugni un vigile del fuoco. I genitori della vittima appunto di questo vigile del fuoco dicono che è stata una bestialità assurda. E allora c'è una nuova udienza per rito abbreviato a carico del 29enne fanese, lo vedete qui, di origine albanese, Claidi si chiama, che l'11 giugno colpì a morte il 34enne, quindi veramente giovanissimo, Giuseppe Tucci, vigile del fuoco che morì. E allora ascoltate le testimonianze dei colleghi dell'imputato e il pugile Signani, campione europeo di pesimè, di consulente, proprio per capire quanto forti sono stati questi pugni e soprattutto questo uomo che ha inveito sul corpo che era già a terra, ha continuato a inveire con pugni, cazzotti, su un corpo che era già, insomma, veramente disteso a terra, quindi una rabbia, una bestialità assurda viene definita. Amarotta incuria alla stazione, parte il treno del degrado che in decenza è in stazione, la denuncia di Bonaccorsi, erba alta, mezzo metro e mondizia ovunque. Qui vedete queste immagini nel resto del Carlino appunto. Dell'Onti, vicepresidente di ambito e ha anche un posto nel direttivo di Anci Marche. Stiamo parlando di Davide Dell'Onti che è sindaco di San Lorenzo in campo. Urbino, sul caso Petriccio, le carte sono in regola, il Consiglio Comunale è agitato per rispondere alle accuse della minoranza. Per la vicenda della mostra, Raffaele Urbinas, il valore è super quanto pagato. Il lutto è morto padre Paolo Paoli, padre missionario cambogliano e poi anche Frontino e Capitale è sicuramente al quadrato. Il piccolo comune tra i protagonisti di Pesaro 20-24 per la cultura, fino a domenica un programma con una mostra su Manzoni e Verdi. E poi abbiamo anche il via al cantiere per salvare la fontana di Cagli. Il manufatto fu realizzato da Giovanni Fabri realizzando la pietra del Montenerone come documentato da alcune ricerche storiche che sono state fatte. Al conservatorio torna il Festival di Musica Antica, quattro appuntamenti in due settimane. Si inizia oggi alle 18 con l'Essamble Croma formato da docenti e studenti. E invece a Urbino la mostra di Federico Barocci che come sapete sta per finire, ha deciso per le giornate del 4 e 5 ottobre di restare aperta fino alle 23.15. Tanta è la richiesta per andare a vedere questa bellissima mostra che io ho visto e vi consiglio veramente di vedere. Monte Porzio con 50x50 punta ad essere città ideale fino a domenica per la capitale della cultura. Ci sarà una ricca proposta tra arte, fotografia, musica e sapori. Ma come sempre il nostro spazio e la natura della cultura vi informa dettagliatamente su quanto accade appunto nella capitale della cultura. Andiamo a vedere le pagine del Corriere Adriatico dove si parla del vino della regione Marche. Il vino non molla mai i tre bicchieri a 24 etichette. Un premio in più dell'anno scorso nonostante Peronospora che è questa situazione che c'è stata di questa siccità e crisi a Moncaro. Il Gambero Rosso merito del forte impegno familiare della cultura campagnola. Quindi i nostri vini Verdicchio il Biancolo del Metauro il Falerio insomma sono veramente prestigiosissimi. E poi dal tartufo alle mostre attrattivi tutto l'anno ma nessuno ancora lo sa. siamo anche noi la regione dei grandi eventi che sono di caratura internazionale di quelli che hanno il potenziale per fare delle marche una destinazione turistica non solo da giugno ad agosto ma abbiamo manifestazioni che hanno saputo collegare la vocazione dei territori e sono gli strumenti giusti per fare da richiamo a soggiorni enogastronomici di tutto rispetto. Ad esempio le marche fuori stagione quali sono? nella provincia di Pesaro Urbino l'enogastronomia pensiamo al tartufo a Pecchio Pergola Qualagna Sant'Angelo Invado Cultura abbiamo Federico Barocci a Urbino fino al 5 ottobre poi c'è Macerata c'è sempre l'enogastronomia a Dancona abbiamo enogastronomia e sport a Fermo anche il Pop a Scolipiceno lo sport città europea dello sport 2025 sarà appunto il prossimo anno e poi ricordiamoci che la fiera dei cavalli di Cantiano è seconda solo a Venezia e quindi queste sono le bellezze della nostra regione e anche qui troverete due approfondimenti due pagine di approfondimenti per quanto riguarda la provincia e quindi hanno vinto tutti il centro-sinistra resta in sella ma il centro-destra ha i voti e i voti li potete vedere qui suddivisi tra centro-sinistra e centro-destra per il rinnovo dei 12 consiglieri della provincia hanno votato 540 amministratori su 656 aventi diritto qui il numero poteva essere più alto degli amministratori che non votano non è molto bello l'affluenza doveva essere molto superiore all'82,3% visto che stiamo parlando di amministratori di politici che fanno questo nella vita il nostro risultato un successo abbiamo compiuto l'impresa Carloni che porta in dote tre consiglieri rivendica i 7000 voti in più del centro-destra ma Peppino Paolini attuale presidente della provincia dice mezzo pieno io vedo tutto pieno il nostro bicchiere e non ho dubbi governiamo ancora noi perché siamo i vincitori ritorniamo un attimo alle foto dei nostri amici siamo a Monteciccardo Angela si chiama? regia Angela vediamo un po' buongiorno a tutti questo è il panorama che ha Angela dalla sua finestra a Monteciccardo bellissimo guardate che belli questi due questi due alberi che appunto sono proprio equidistanti quasi in questa foto bellissima di questo tramonto colorato grazie mille Angela per condividere con noi questa tua bellissima foto veramente nella pagina 9 del Corriere Adriatico invece si parla del caso di psichiatria perché attualmente c'è un solo medico in servizio il centro di salute mentale è a rischio numerose le segnalazioni di famiglie in difficoltà il PD ora in pressing sulla regione in modo particolare la consigliere regionale Micaela Vitri la stessa ha presentato un'interrogazione a firma anche dei colleghi per l'urgente ripristino e sollecce ripristino di di altri aiuti insomma per questo reparto di psichiatria per la cittadella della salute mentale non c'è solo il problema del trasferimento dei servizi in vista dell'apertura appunto del cantiere nel nuovo ospedale di Muraglia ma anche il nodo della carenza dei medici in servizio proprio nel centro di salute mentale che si trova in via Lombroso Convocata per oggi la conferenza dei sindaci da Monbaroccio anche i suggerimenti per le linee programmatiche una conferenza dei sindaci e AST1 Convocata per oggi l'istanza per una convocazione urgente era già giunta dal sindaco Biancani il 10 settembre scorso e quindi si parlerà chiaramente di sanità e vi daremo contezza nel nostro telegiornale come sempre e poi una borsa di studio intitolata Adaldo Amati la proposta dell'ex sindaco Ceriscioli che lo ha avuto come capo di gabinetto il centro Benelli anche qui la notizia della copertura a rischio il comune transenna il piazzale intanto per fare sicurezza e provvederà subito a intervenire insomma oggi il comune dovrà valutare la situazione di questo stabile decidere come intervenire avendone la proprietà e la competenza per la manutenzione Lodovico Camilletti nuovo comandante per i vigili del fuoco un nuovo dirigente per la sede pesarese dei vigili del fuoco si tratta di Lodovico Camilletti che prende il posto di Leonardo Rampino volevo anche farvi vedere prima di andare poi alle pagine di Fano che riprendono comunque le notizie che abbiamo visto già in precedenza le foto di questi due signori perché voi spesso ci mandate le foto della restiamo un attimo su questa foto regia voi spesso ci mandate le foto dell'incuria come questa ma in questo caso questi due signori ci hanno mandato Gianfranco e Maurizio sia le foto dell'incuria ma anche di quello che hanno fatto cioè si sono messi questi due pescatori amatoriali ripeto Gianfranco e Maurizio perché li voglio citare bene hanno pulito questo piazzale che guardate come si trovava appunto nella zona degli scogli del molo del porto chili di immondizie abbandonati da chiaramente comportamenti incivili e irresponsabili per il rischio di rilascio soprattutto di queste plastiche che possono poi ricadere in mare e lì il pericolo e allora vedete quanta immondizia c'era Gianfranco e Maurizio veramente complimenti per quello che avete fatto grazie 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 a nome della della città di Pesaro a nome di tutti noi e che chiaramente quel luogo lo viviamo e a nome anche di tutti gli ambientalisti coloro che amano al mare che quei rifiuti insomma potevano essere pericolosissimi chiaramente per le acque del nostro mare grazie mille è veramente un grande senso civico ci tenevo a farvela rivedere anche questa mattina perché sono cose che dobbiamo raccontare assolutamente fanno anche qui si parla del dengue i casi sono saliti abbiamo visto a 102 kit anti zanzare in farmacia al costo di 15 euro che si possono trovare a partire da domani anche qui la notizia del gemello digitale delle mura di augusto l'annuncio che arriva dal centro studi vitruviani il modello potrà essere esposto e portato ovunque l'incarico dato alla Politecnica delle Marche rilievi dell'arco alla rocca al via domani e poi qui siamo a Fossombrone esattamente al carcere di Fossombrone questo uomo della Polizia Penitenziaria è stato arrestato giovedì scorso perché chiedeva mille euro a telefonino sono in difficoltà economiche questa è stata la sua risposta chiedeva chiaramente cioè chiaramente insomma chiedeva questi soldi ai detenuti in cambio appunto di un rilascio di un telefono l'introduzione in carcere di apparecchi telefonici al fine di renderli disponibili ai reclusi è un reato specifico disciplinato dal codice penale articolo 391 che prevede per il pubblico ufficiale la pena della reclusione da 2 a 5 anni mentre a Mondolfo oltre 80 le benemerenze Avis ecco i migliori 10 donatori la sezione Guido Tonnini ha celebrato il 65esimo anniversario della fondazione ecco qui la notizia di questa ragazzina di 21 anni Giulia di scusate Martina di Giulio era solare bella e giovane avrebbe compiuto 21 anni tra un mese il prossimo 3 novembre ma Martina avrà per sempre 20 anni perché è morta domenica pomeriggio in un tragico schianto nella galleria di Cesena il motociclista che guidava era il suo fidanzato il 27enne Kevin Babbi di Cesenatico che è rimasto praticamente illeso lei invece è morta sarai sempre con noi e con il tuo sorriso la giovane morta nello schianto era originaria di Gradara aveva studiato a Pesaro ed ora amici andiamo allo sport ieri in casa c'è stata la partita della Vis che ha portato al risultato di un pareggio con Perugia la Vis va in bianco contro il Perugia arriva solo un pari ci prendiamo questo punto Stellone il coach dice gare come queste si risolvono con un episodio il pareggio non è una sconfitta i ragazzi erano tristi per non aver colto i tre punti il che la dice lunga sulla loro mentalità e poi la VL è già ora di tornare a nuove sfide sono tante le partite dopo quella di domenica arriva mercoledì una nuova partita in casa perché appunto mercoledì esattamente domani sera arriva Vigevano e allora vediamo anche qui VL buona la prima con lo spirito giusto ora doppio appuntamento in casa per volare e c'è anche spazio per la Fiorini Pesaro che lancia la nuova stagione ve lo faremo vedere questa sera nel telegiornale il presidente Mattioli vogliamo toglierci qualche soddisfazione stiamo parlando del rugby in serie A voi sapete che partiranno faremo anche una grafica che ve le ricorderà le partite del rugby su Rossini TV come sempre la Fiorini Pesaro rugby lancia la stagione 2024-2025 e in questo caso lo ha fatto nell'aula magna della protezione civile presso il Codma a Fano e allora amici andiamo a vedere che cosa vi aspetta su Rossini TV innanzitutto questa sera alle 21.20 c'è una quarta puntata di cultura territorio impresa questo format creato dalla compagnia delle opere che lo mette a disposizione appunto di tutti i cittadini dove si conoscono gli imprenditori del territorio e gli imprenditori che parlano di questo territorio e allora questa sera ascolteremo Alfio Magnesi di Idiostampa e Roberto Lucarelli che è titolare dell'azienda Viti Vinicola che porta appunto il suo nome subito dopo Sharper note europea dei ricercatori dell'Università di Urbino queste sapete sono le tantissime bellissime iniziative che organizza e che propone l'Università di Urbino e allora ve la raccontiamo questa sera alle 21.40 il nostro telegiornale come sempre vi aspetta mandateci le segnalazioni guardateci alle 19.30 anche in diretta in streaming oppure potete rivederci in podcast sul nostro sito e poi vi ricordiamo che giovedì quindi tra pochissimi giorni torna la prima puntata di Insieme a Canestro e quindi vi aspettiamo giovedì alle ore 21 e poi subito dopo giovedì vi trasmetteremo la partita della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro la prima partita in casa contro El Cam Vigevano quindi giovedì insieme a Canestro subito dopo partita della VL e la replica che potete poi rivedere chiaramente sabato alle ore 15 e allora grazie amici per essere stati con noi vi auguro davvero un buon proseguimento di giornata seguiteci mettete like sulla nostra pagina Facebook seguiteci siamo anche su Instagram e siamo anche su LinkedIn io vi ringrazio e ci vediamo domani mattina grazie a tutti